Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Stefano Cecchi dice la sua sulla permanenza di Montella in Viola Commisso è stato intelligente a confermare l'aeroplanino ha detto il giornalista a Firenze ha fatto benissimo è arrivato tre volte quarto e se l'è giocato con tutti Joseph Commisso celebra Babbo Rocco per la festa del padre quello che so di mio padre è che considera sempre l'impatto che avrà sulle persone prima di prendere una decisione ha detto il giovane è il miglior padre che mai potrei avere Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus per il tecnico toscano che lascia la panchina del Cezi dopo un anno un contratto triennale per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola